Adesso facciamo un po' di GoPro Session, un posto veramente bello. Siamo in Sud Cornovaglia, particolare sud-est, e siamo vicini a un paese che si chiama Polperro. C'è un pezzettino di spiaggia dove si può fare il bagno, è molto pericoloso. Oggi è la giornata perfetta per l'Inghilterra, si può chiedere di più di così. Come vedete qui basta girarsi un attimo e il panorama è spettacolare. La costa è abbastanza alta, però c'è la possibilità di scendere al mare qui, al contrario del nord della Cornovaglia. Forse è ancora più spettacolare, ma meno accessibile. Poi è più freddo, anche qui siamo meno esposti alle intemperie dell'oceano. È veramente una pace incredibile qua, anche se è giornata turistica. Veramente bello. Adesso mi rincammino verso l'automobile che sta penso a tre chilometri di curve della vita, come cantava. Quello. La vegetazione è abbastanza semplice. Naturalmente qua il vento regna continuo, quindi non è che ci stanno alberi molto alti. però, nonostante tutto, l'idea che dà è quella di natura incontaminata, sicuro viva, non brulla o desertica. Sono intorno a me api calabroni che ronzano uberosi, però sembrano ignorarmi, faccio parte della loro attività. e tantissime farfalle, adesso non so se riesco a prenderne qualcuna. Qui ce ne stanno veramente tante. Qui ci sta qualcuno con la barcha di Gironzo. Quello che c'è per terra, sembra che durante l'inverno qui sia soprattutto abitato da anche pecore. Non so se si lascia gli loro ricordini. Ahahah. Ehi, guardate quattro livelli di Gironzo. Ehi, guardate. Ehi, guardate. Così qua.